Siamo proprio in Piazza Vrado dove è nato nel 1998, poi abbiamo avuto la meccanizzazione, poi abbiamo avuto la chimica, insomma oggi siamo nell'era di Inter, di Big Data e quindi tutto questo sta mettendo Fiera Agricola proprio in Verona al centro della scena internazionale con una fiera che è sempre più importante, quest'anno abbiamo un 40% in più di espositori stranieri, un 10% in più di espositori globali con 900 espositori, quindi direi una fiera agricola che sta tornando ai grandi albori di una volta. Abbiamo deciso di intraprendere una serie di attività, quindi prima fra tutte il Premio Innovazione ma anche una serie di workshop, di incontri tematici nella direzione proprio di quelle che sono le sfide che l'agricoltura deve vincere nei prossimi anni. Prima fra tutte l'innovazione tecnologica che è la base della sostenibilità, l'altra sfida che l'agricoltura è chiamata a sostenere e a vincere e infine terza e ma non ultima è quella di un approccio dell'agricoltura insieme a tutto il resto della filiera ai mercati per soddisfare le esigenze del consumatore che è sempre più esigente proprio in termini di sostenibilità. Il futuro è quello che ci circonda e quindi una sostenibilità dell'ambiente e di tutto quello che è rivolto alla cittadinanza, quindi un'agricoltura sempre più innovativa alla sostenibilità e Carbon Food Print Zero.